ciao a tutti sono valentina parazzini master crystal nails in questo video vi mostro le nuove colorazioni dei tre step in uscita con la collezione primavera estate 2022 sono cinque nuovissime tonalità due nuance di rosa 3s 165 e 166 una di giallo 167 un verde 168 ed infine un'edizione speciale con il veri peri vediamoli ora stesi nel dettaglio il tre step 165 è un meraviglioso rosa barbie totalmente coprente con una sola passata tre step 166 una tonalità di rosa più calda dalle sfumature pesca perfetta per chi ama un colore più caldo e delicato ma che si accenderà in estate accanto ad una carnagione abbronzata tre step 167 non può mancare una nuance di giallo pastello con l'arrivo della bella stagione coprenza perfetta e stesura davvero molto facile tre step 168 un verde pastello delicato i nostri tre step sono così coprenti e fluidi che anche nelle tonalità più chiare non lasciano striature e si auto livellano perfettamente infine non poteva mancare lui il colore dell'anno 2022 il veri peri una tonalità intensa che richiama il blu per vinca con note di rosso violaceo i nuovi tre step della collezione primavera 2022 sono meravigliosi anche in versione matte sigillati con il nostro insostituibile mattever la pigmentazione è davvero eccezionale e i colori sono brillantissimi le nuove tonalità tre step e tutte le novità primavera estate 2022 potete trovarle presso tutti i nostri rivenditori ufficiali in italia o sul nostro shop online all'indirizzo www.crystalnails.it a presto